Molto semplice per scaricare poste da un iPad o da iPhone, andate su App Store, pulsante Cerca e qui sopra in alto digitate Poste Speed, eccolo qua, fate Ottieni, dopo averlo scaricato cliccate Apri e vi ritroverete nell'applicazione. Se invece avete un Android o uno smartphone, cliccate su Play Store, qua sopra su Cerca cliccate Poste Speed o scrivetelo se non ce l'avete e facciamo Installa. Dopo che si è installato cliccate Apri e così avete anche l'applicazione Poste sul vostro smartphone. Adesso tornate indietro al video precedente oppure cliccate qui sopra in alto a destra e vi apparirà il video.